Buongiorno a tutti, saluto anche le autorità militari presenti oggi qui in questo teatro, le altre autorità invece civili, vedo tante persone e tanti amici riuniti qui oggi e ringrazio Emilio Procaccini per aver voluto organizzare questa giornata, anzi queste due giornate, perché è vero, io oggi mi sento qui più come ex aluno che come parte delle istituzioni, l'Istituto Tecnico Agrario per la città è un punto di riferimento importante da sempre, un po' per la sua dislocazione geografica che non consente a nessuno di passare e di non vederlo, è un po' perché rappresenta effettivamente un pezzo importante della storia e del presente della città e del territorio, io ricordo benissimo quando frequentavo l'Istituto nella mia classe di 23 persone, 23 studenti, soltanto in 4 eravamo di Fabriano, gli altri erano tutti quanti della provincia e addirittura parecchi erano anche Umbri, quindi è un punto di riferimento veramente grande e fondamentale per un territorio vastissimo. Il ruolo che si è sempre dato, secondo me, l'Istituto Tecnico Agrario è stato quello anche un po' di anticipare i tempi, io ricordo che quando lo frequentavo io uno dei problemi principali di cui si parlava e che si cercava di affrontare era il cambio generazionale, c'era la preoccupazione che con l'invecchiarsi dei imprenditori agricoli che al tempo erano operanti sul territorio potesse mancare un ricambio generazionale. Nel frattempo questo ricambio generazionale in parte c'è stato e devo dire che questo ha portato grosse evoluzioni e grosse innovazioni nel mondo dell'imprenditoria agricola, qui a Fabriano abbiamo tanti esempi e sono esempi che ci consentono di vedere come sia ancora possibile fare imprenditoria agricola, perché molto spesso io ho ascoltato anche all'università, ma anche ultimamente in incontri che vengono fatti con rappresentanti accademici, il fatto che si è un po' persa l'idea dell'imprenditore agricolo nel momento in cui l'attività e l'organizzazione aziendale viene basata un po' su quelle che sono le esigenze di mercato e su quelle che sono un po' le indicazioni che vengono date dai grandi distributori di sementi piuttosto che da un'idea di sviluppo e di ricerca di mercati nuovi, di prodotti nuovi. Questo nei giovani invece c'è, a Fabriano abbiamo tante realtà, piccole, grandi realtà che cercano di trovare nuovi spazi, di raggiungere nuovi mercati e di trovare anche soluzioni diverse su come farlo, quindi utilizzando chiaramente le nuove tecnologie che sono fondamentali per raggiungere clienti e mercati che altrimenti sarebbero normalmente irraggiungibili. Quindi il ruolo che si dà all'Istituto Tecnico Agrario è questo, e il fatto che ci sia questo attaccamento e questo affetto della città nei confronti di questa istituzione lo dimostra anche un aneddoto che non posso non citare, ossia quando a Fabriano si è attivata una grande sommossa e solidarietà nel momento in cui era a rischio una parte della proprietà dell'Istituto Tecnico Agrario, quando una parte dei terreni dell'Istituto erano stati individuati come sede di una nuova struttura di residenza per gli anziani. E lì ricordo che effettivamente la città ha dimostrato quanto invece ci tenesse a far sì che quei terreni rimanessero a disposizione dell'azienda, che è parte integrante poi dell'Istituto. E quindi questo penso che sia importante, che deve far sentire orgogliosi tutti gli studenti che attualmente frequentano quella scuola, una scuola che ha degli spazi, come diceva giustamente Procaccini, non facili da gestire, sia interni in termini di laboratori, che penso siano invidiati da tante altre scuole, e per fortuna che sono stati riutilizzabili dopo il sisma del 97, io ricordo mi sono diplomato nel 96, nel 95, ed era stato appena inaugurato il nuovo laboratorio di chimica, non eravamo riusciti neanche noi ad utilizzarlo, quindi è subito, c'è stata la necessità di lasciare la struttura. Però è una struttura che appunto è riuscita anche a rinascere, è riuscita a ripartire alla grande, a rinnovarsi, a trovare nuovi spazi, a rinnovare il convitto, che è anche questo un punto di riferimento fondamentale. Un altro aneddoto che racconta è che noi a scuola non potevamo mai fare sciopero, perché l'allora preside ogni volta arrivava e ci minacciava di chiudere il convitto, e quindi poi dovevamo sempre desistere e rientrare in classe. Però ecco, è veramente un orgoglio per me essere qui, e ripeto, anche per chi frequenta la scuola, capisco che da studente non si percepisce questa realtà e questo valore, però deve essere veramente un orgoglio perché la città vi guarda e la società attende, insomma, da parte vostra un qualcosa sempre di nuovo nel momento in cui uscirete. I percorsi che potrete affrontare una volta usciti da scuola saranno tantissimi. Io poi ho scelto di laurearmi in Scienze Forestali e Ambientali, però è soltanto una delle tante possibilità che veramente questo istituto offre. Quindi in bocca al lupo a tutti, e di nuovo grazie a Emilio per avermi anche voluto qui insieme a voi. Grazie. 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 Grazie.